sono io sono il vostro amico youtuber gabri costa in questo pack di bentley ora bisogna fare guida la scintilla bisogna completare il livello con massima attenzione qui ci vuole concentrazione ora il problema è che non sappiamo dov'è il traguardo quando rimbalzi sui respingenti sembra un flipper è vero ma concentriamoci sull'obiettivo questa cosa di guidare la scintilla è veramente divertente è una pallina elettrica questo non è un flipper che si gioca una pallina di metallo abbiamo finito iscrivetevi al canale e mettete un mi piace ciao a tutti ricordatevi di seguirmi sempre su youtube ora iscrivetevi al canale mettete un mi piace e condividete